Ecco, qua stiamo accedendo alla nostra location, una sorta di azienda strana, potrebbe essere un'azienda agricola oppure una qualche genere di fabbrica, di officine, che dopo andremo probabilmente a esplorare anche quello. Una bella giornata se l'ha detto oggi. Sì, è un bel sole, si può tagliare anche di qua. Bello. Guarda che grande che è, tutto dentro riesce ad andare. Madonna, ma cos'era? Ecco questa qua è tutta la parte dell'azienda. Mamma mia. Si, guarda che è un po' di... Cioè hai lasciato tutto così, eh? Si. Che storia. Ma che sia stata cosa? Non lo so. Allora, mulino c'è scritto, vedi? Attio, sì, è vero. Vado a vedere vicino. E' attento dove metti i piedi. Sì. Mulino. Camminiamo qua dentro. Che bella porta. Mio Dio. Oh, molti macchinari, hai visto? Non so che cos'è. Samifi. Milano. Motore, è un motore di qualcosa. Sì, c'è proprio odore di olio. Sì, sì, è vero. Anche io ho fatto questa cosa. E vedete, guarda queste porte qua. Guarda queste porte qua. Che strana cosa. C'è tipo, sembrano celle frigo. Assurde. Che cos'è sta roba qua? Si apre. È enorme. Sì, è tipo celle frigo. Ma no, non sono magazzini. Ma guarda che porta. Sì, è pesantissima, fra l'altro. Tutta piena questa. C'è uno che rimane dentro bloccato qua. Ma l'ignore? E dentro? Attenzione, anche questo qua penso che sia. Eternit. Anche là, macchinari. Adesso è come magazzino. Ma questa porta è impressionante, eh. E ce ne sono tre. Vedi? Oh, cacchio. Allora, aspetta, era... Non va. Era appoggiata così? Ok. E le finestrelle. Boh. È come delle cose di spezione, no? Che cosa assurda. Queste qua erano chiusi, c'è prima. Anche queste sono grossissime, cioè. Ma dai. Che grosse che erano. Ah, vedi? Qui c'è roba. Oddio. Andiamo. Guarda, tv vecchie. Una valigia. Guarda che sono rimasto qua. Ma sono vecchissime queste tv. E questo? Letture e strumenti. Alessandro Manzoni, la Pentecoste. Ma no. Anche questo salottino è vecchissimo. E queste sedie? Wow. Impilate così. Ma chissà cos'era questo macchinario qua. Non lo so. Potrebbe essere una sorta di condizionatore. Ecco, era la cellula frigorifera. E questo era il suo condizionatore. Perché c'era una serpentina refrigerante dentro qua. Ah, ok. Sì, ho capito. Parava l'aria fuori, fredda. E secondo me dentro tenevano roba il fresco. Non si sa che cosa. Perché una porta del genere è solo quello che poteva servire. Infatti. E la bottolina forse era uno spioncino per verificare dentro senza dover aprire la porta, no? E' una trattatura italiana. C'era qualcuno di dotto qua. Eh sì. Se c'erano i ragni dentro, scusa. Sì, scappavo. Era aperta o chiusa? Era chiusa. Sì, era richiudo. Ma forse le mascherine ci stavano, eh. Non so perché io sento già in golia un po' di polvere, no? No, dai. Vediamo l'ultima porta cosa ci riserva. Oh mio Dio. E cosa c'è qua? Oddio. Ma che roba è? Oh mio Dio. Ma qua qualcuno ci ha dormito, eh. C'è un materasso. E questi? Sai cos'è questi qua? Sono qualcosa per fare i buchi di segnalazione di qualcosa. Non ho idea di cosa siano. Vedi? Perché vanno conficcati nel terreno. E quelli è tipo dei campi da golf. Dei campi da golf? Guarda qua. Hai visto il tabellone? Ah sì. Golf Club. Sì, anche là. Questo è il tabellone per segnare i punti. Questo è un lettino, eh. Questo sembra un lettino... E' morbido. Per massaggi? Sì. Con la stampante sopra. Questa qua è la stampante... Questo qua era il logo originale della Apple. A colori. C'è un lettino da bambino là in fondo. Quello mi fa un po' abbastanza impressione. Sì, l'ho visto. E' anche una sorta di box. Ma Candy, le nevo la stoviglia di una volta, la vedi? È vero. Grazie. Vedi? Candy. Eh, va bene per te adesso che ti sia la rotta. Sai che comoda, cara? Ah, certo. Questo è il lettino che dicevi tu? È un lettino da bambini. Tanto quello lì che è quello... Pensi che una volta dormivano queste cose qua. Eh, lì in angolo. Vedi che c'è un lettino e poi sopra c'è un piccolo box. Con tutti i tubulari in ferro. Non si facevano male questi bambini qua dentro. No, erano spartani. Quelli di adesso si fanno male. L'allegro chirurgo. Hai visto? No, questo è storico. Questo qua è uno dei giochi che ha fatto la storia, eh, questo. L'allegro chirurgo. Ma che stiamo... C'è ancora le batterie dentro. Sai che è tanto strano tutte queste cose da... Giochi da bambino qui dentro. Puoi andare in fresco? Ce la faccio! Vai a un mercadone. No, voglio... E questa? Guarda. La sana lavorazione. Lavorazione di cosa, però? Delle farine. Che bello! Oh, ci siamo. Eh, ma è una figata. C'è qualcuno? Cosa è un paio di scarpe? E' un'agenda. Un'agenda di che anno? Molino. Molino era, sì. 1990. Sono rimaste ancora qua, guarda, le tutte le... Mamma mia! Perché le hanno lasciate tutto qua così? Non lo so. La scala punta anche qua. Anco ci perseguita. Però col sostegno, eh. Prima volta che la vedo col sostegno. Ma diteci perché... A cosa servono le scale con le a punta? Cioè, che cosa servono? Per andare sulle botole strette? Non lo so. Comunque questa è una sorta di officina perché c'è anche un bancone... Un bancone da lavoro, là, eh. Sì. Forse qua serviva per... Riparare il mulino. E questa vasca? Forse si tacciavano le farine, non lo so. Si tacciavano l'oro. Sì. Un'altra scarpa. Gold Rush. Tanto per... Ma boh! Sì, questa è come una zona in cui c'è una piastrella e quindi tipo pulitura di qualcosa. E quella è una cassaforte. No, no, c'è... Dubito altamente. Infatti non c'è niente. La batteria. Guarda qua quanti ingranaggi. Questo. Pezzi di ricambio, sì. Sono tutte le varie... Pezzi di ricambio delle varie macchine. Cuscinetti. Sì. Guarnizioni motore. A questo punto vediamo qua cosa c'è. Collegato. Wow, è enorme qua. Cioè, è gigante. Mamma mia. Un po' impressione qua, eh. Sì, questo armadio qua è interessante. Andiamo a vedere. Intanto cappestiamo vetri dappertutto. Che sai cosa serviva questo macchinario? Ma sembra anche questo, però... Generale, luce, temperatura è il massimo. Ah, è un quadro elettrico. No. Oppure mettevano qua qualcosa per essiccare. Ma può darsi. Una sorta di forno essiccatore. Vedi qua c'è la sua porta che si chiudeva. Sì, può essere. Con la finestrella anche per verificare. Sì, può darsi. Vedi, questo andava giù così. Sì, è delle... Oppure... Ma lì cosa c'è... Se qualcuno sa cosa potrebbe servire questa specie di macchinario, ce lo faccia sapere. bella questa bilancia. Hai visto che vecchia che è? Chissà se funziona ancora. Però secondo me... No, è bloccata. È bloccata, è ruggine. Allora, questi stavano gli uffici invece. Andiamo prima degli uffici. Sì, va bene. Proviamo. Oh mio Dio. Oh mio Dio. È tutto distrutto qua. Oh Signore. Vecchie scrivanie, le hanno ribaltate. Ma cosa ha fatto? Soliti. Questo? Ci fa gli intestanti del mais. Quindi qualcosa che era quel mais, quindi farina. Sì, sì, sì. È proprio un mulino. Madonna, c'è tutta la contabilità qua. Sì, guarda. Vedi? Fattura di acquisto del 78. Pensa a te. IRPEF 79, 78, 74. Hanno lasciato tutto. Ma guarda. L'esperto risponde. Sì, tenevano tutto poi. Una roba di... Riviste. Che tipo di riviste? Informatore agrario. Informatore agrario. Guarda, un Bob. Un Bob? Ce l'avevo anch'io. Ma è anche qualcuno. Ma che c'erano tanti giochi di bambini qua. Guarda che inquietante sta stanza. Mamma mia. Questo era l'ufficio del boss, eh? Mamma mia. Questo era proprio l'ufficio del boss. Ce lo senti? Ce lo senti? Beh, sì, è importante. Guarda che bella scrivania è importante. Guardate che telefono vecchio. Oddio, sì, me li ricordo. Qua, sa che segreti ci sono in questi cassetti qui? Sarà fatture su fatture su fatture. Andiamo a andare lì, cosa c'è? Che belle queste schede ali. Guarda, golf. Guarda che c'è un richiamo che è qua il golf. Ero un cliente. No, drenaggio. Mais, biettole, frutteto. Che bello. Qualcosa legato? Questo. Ma perché hanno ribaltato tutte le scrivone? Ma perché sono dei pazzi. Tutte ribaltate. Ecco ancora le mucche qua. Le nostre amiche mucche. Qualcuno si è divertito a lanciare un telefono. E a rompere il vetro con la cornetta. Hai visto? Oddio. Ma perché? Ma l'ha lanciato così. L'ha lanciato il telefono con la cornetta. Ma che cretini. Stampanti. Un giubbotto dietro l'aveva avanzato. Per il piacere di distruggere tutto. Per i farfalle come sono attaccate. Sì. Per il piacere di distruggere tutto. Qualcuno ha fatto qualsiasi cosa. E quei cassetti che spuntano lì? Eh li ho visti prima. Sono abbastanza curiosi. Cioè sotto la finestra così. Tutti i vetri. Prodotti agricoli. Erano loro? Si vede che hanno fatto un concorso e gli hanno fatto la targa. Ok. Oddio questo qua. Questa quanto vola. Coppa del mondo di sci. Chissà di che anno è sta cosa. Forse devo metterci i guanti. Servizio veterinario. Ah ok. Giustamente per sì. Dovevano avere pressi di veterinario. Questa è la mette gillette vecchissime. Io lo usavo per grattare i disegni. Fatti quella. Ah quella china. Quella china. Sì per grattare via. Senti hai visto questa parete? Guarda che assurdo. Guarda l'intonaco dentro. Eh si è scostato tutto. Sì. Però adesso la rete lo tiene così. La saccoccia. Che assurdo. Dobbiamo scavallare là. Sì. Allora. Bisogna passare là secondo me. C'è il varco. Addirittura. Eh sì. Perché così si riesce a passare di qua. Ok. E adesso? Adesso vieni tu. Cassetta è pronto a soccorso. C'è ancora rimasto qualcosa dentro. Hyper croluro di ferro. E cosa serve? Non lo so. Poi c'è mastice. Pintura di odio. Boh. Ok. Ma il mastice. Ah il mastice. Ma per cosa? Il mastice? Eh non lo so cosa facciamo. Però questo qua è un serbatoio. Bagno tutto crollato. Che casino. Di che è proprio un cesso. Un cesso di nome di fatto. E là questa qua forse riesco a vederla. Perché c'è un tavolino davanti. Spese maniscalco. 4.745.000. Maneggio. Ma dai. Sì. Una cosa assurda sta l'arma qua. Non lo so. Non lo saccio. Non lo saccio. C'è qualcosa di stranissimo. Andiamo su di qua. Andiamo nei magazzini. Nei magazzini centrali. Ma chi l'ha messo? È un po' inquietante. È un maiale. È rosa. No ma forse un coniglietto. Rosa. Sai che coniglietti che vanno i tamburelli. I tamburelli in mano. Spodazzi. Sì è un coniglietto. È bello. È inizio della scalinata. Bello. Cosa ci fa lì? Ma lasciamo. Ah sì sì. Beh meno male che non c'è il tamburello. Perché magari sai. Tra dieci minuti sentiamo. Guarda che è un murales questo. Ancora giochi di bambini? Ancora? Vuoi giocare con me? Infatti. È alto qua guarda. Si sta scala. Tiene tiene. Assolutamente sì. No. Non è mai assolutamente sì. Che grande è questa. Guarda quanti bauri là. È tutto di legno. Guarda gli capelli. Cavolo. ecco è partito il mio cavolo sono pure attirato da questi bauli qua io si sono bellissimi sono bellissimi sono veramente belli e come se avessero messo tutto qua i documenti per trasloccarli e poi li hanno lasciati tutti qua tutti i documenti contabili hanno tutti catalogati e messi qua per essere trasportati ma sono decine decine di bauli ma belli anche c'è ma tipo se apriamo una a caso vediamo come si va aprivano no c'è la chiave c'è bisogno della chiave qua penso che si aprano senza chiave sai ma va? ma non lo so qualcuno avrà provato anche a forzarli comunque c'è tutto dentro la roba qua banca vedi? ma che roba tutto il nome contabili abbandonato ma quanti chili di carta è surreale quanti chili di carta ma tutti questi tubi hai visto? grandi sarà dell'impianto di scaldamento io ti immagino e queste finestre qua che danno nel nulla vedi queste qua si portava a mano due di qua e due di qua aspetta se dovete sfruttare le cose perché non aveva le ruote questa qua proprio a mano la portavi sì ma hai notato che sotto tutte le finestre ci sono queste specie di sono finestre a scorremento ma tutte sono fatte così tutte sotto le finestre tipo quella lì guarda se si aprono quelle là davanti a te saranno belle che indurite sarà durissimo sì infatti non si muove tira con tutta la tua forza non va ma sai che va no tutto indurito ok non si muove niente questa va bene insomma il concetto è quello eh guarda se questa si apre no 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 non si muove non si muove ci vuole la mia forza brutta ecco ci vuole la tua forza brutta vedi che comunicavano era per arieggiare forse qua metteranno dei positi del grano ma per arieggiare che senso ha se c'è la finestra ma forse non lo so ma ricordiamo se qualcuno sa che cosa possono servire queste bottele sotto le finestre guarda come va adesso forse le ho muolette io no ma diteci nei commenti che cosa possono servire queste spioncini quindi come possiamo chiamarle cambiamo zona c'era una scala che andava su mi pare no quella comunque leggendo sui curiosando tra i documenti poco fa mi sono resa conto che non so come il motivo non lo conosco questa azienda qui aveva a che fare con una grande azienda italiana di cui non si farà il nome una grande catena di grandi magazzini ci sono un sacco di versamenti ci sono un sacco di documenti fatture giroconti c'è qualcosa di strano sono due realtà completamente diverse che uno non direbbe mai che possano avere qualcosa a che fare fatto sta che tutta questa caterva di documenti riguarda quell'altra azienda famosa andiamo a vedere anche di qua prima cosa c'è enorme comunque questo posto si e poi andremo anche su di qua allora ora